Ricordare il 9 ottobre del 2022, quando veniva canonizzato da Papa Francesco San Giovanni Battista Scalabrini. Dell'attualità ma anche dell'universalità di questo grande santo, ne vogliamo parlare con il nostro ospite in studio, Padre Giovanni Terragni, accogliamo il buongiorno e il benvenuto storico archivista della Congregazione degli Scalabriniani per parlare appunto di Giovanni Battista Scalabrini. Grazia nominava il 9 ottobre del 2022, grande momento. La canonizzazione, lei c'era in quel momento lì, che cosa ricorda? È stato un grande momento soprattutto perché c'era la presenza degli emigranti. Scalabrini ha iniziato la sua congregazione con due sacerdoti, quando già l'emigrazione italiana aveva milioni di emigrati. Adesso si vedeva lì alla canonizzazione il frutto, come una semente di senape, la grande pianta. Da 34 nazioni erano presenti alla canonizzazione degli Scalabrini, tutti inneggiavano a questo nome, e questo vescovo quasi sconosciuto che è vissuto in una diocesi piccola, relativamente piccola, anche se era vasta, e ora era conosciuto un po' in tutto il mondo. Questo mi ha impressionato, vedere gente di tutti i colori, vestiti in modo diverso, lingue diverse, che erano venuti a Roma e pronunciavano il nome di Scalabrini, sentendo che avevano ricevuto del bene attraverso i missionari nelle loro nazioni. Questo mi ha impressionato il giorno della canonizzazione. Noi stiamo vedendo alcune immagini, tra un po' arriveremo insieme proprio quel momento, il momento della canonizzazione, poi cercheremo di raccontare proprio la figura di questo grande santo che ha tanto da raccontare, lo stava dicendo lei, non dobbiamo dimenticare che lui è stato vescovo a 36 anni. 36 anni, sì. E nell'immaginario collettivo Scalabrini è identificato con l'emigrazione. In realtà è stato un grande vescovo, 29 anni è stato vescovo di Piacenza, ha compiuto, si può dire, miracoli nel suo lavoro, 5 visite pastorali, erano diocesi anche di montagna, molta montagna, c'erano 5 visite pastorali, dico qualche numero, 70 lettere di pastorali, 3 sinodi, 4 o 5 seminari da gestire. Poi era una personalità anche conosciuta molto in Italia da tanti personaggi, sia religiosi che civili. aveva tanto lavoro nella sua diocesi e si è messo a un certo punto anche nell'ambiente come aiutare gli emigranti. Vogliamo tornare allora a quel momento di festa che avete vissuto voi come Scalabriniani, ma tutti quanti a vederlo santo. Ritorniamo al 9 ottobre 2022 in Piazza San Pietro. In chiudere tutti e oggi, nel giorno in che Scalabrini diventa santo, vorrei pensare ai migranti. Anzi, è scandalosa l'esclusione dei migranti. Anzi, l'esclusione dei migranti è criminale. Li fa morire davanti a noi. E così, oggi abbiamo un Mediterraneo che è il cimiterio più grande del mondo. L'esclusione dei migranti è schifosa, è peccaminosa. E in questo stesso modo, come diceva Papa Francesco, anche il pensiero di Scalabrini era rivolto a chi migrava, a chi magari cercava fortuna all'epoca nelle Americhe, lontano da casa, lontano magari dai propri affetti, facendo viaggi pericolosi e non sapendo poi esattamente che cosa trovava. Ecco, lui in questo suo apostolato, anche di prossimità, di vicinanza alla gente, cercava anche di stare vicino a chi andava lontano. Sì, Scalabrini, Monsignor Scalabrini aveva una particolarità che ha attuato in tutto il suo ministero episcopale. Cioè, di fronte ad una necessità, ad un bisogno della gente, lui si domandava che cosa posso fare io. Non diceva, tocca all'altro vescovo, tocca a quella persona, tocca al politico. Io, cosa posso fare? E quando Milano, lì alla stazione, vede tutti questi migranti con le valigie, eccetera, ai bambini, le mamme, le sofferenze sul volto, si è domandato proprio, io cosa posso fare? Immediatamente scrive al Leone XIII e dico, io sono pronto a dare una mano, ditemi cosa devo fare. E da lì è iniziato un po' tutto. Lui aveva anche in famiglia, aveva conosciuto l'emigrazione, perché tre fratelli erano partiti per l'America Latina. Aveva conosciuto l'emigrazione quando era parroco a San Bartolomio di Como. C'era la crisi delle setterie e cominciavano a emigrare verso l'Argentina, il Brasile. E poi, nella sua diocesi, nella prima vista canone che ha fatto in diocesi, ha voluto sapere quanti emigranti c'erano. Si era accorto che c'erano 12% che erano emigranti. Quindi sentiva il problema dell'emigrazione e lo avvertiva sulla sua pelle, si può dire. E da lì Papa Leone XIII, di fronte a Scalabrini, che diceva cosa posso fare io, gli ha detto prepara un progetto. E da lì nasce tutto. Preparo un progetto come assistere gli emigranti, perché per Scalabrini è importante l'aspetto dell'evangelizzazione, nel senso proprio attuale, nuova evangelizzazione, che comprendeva anche l'aspetto sociale. Cosa posso fare io? E prepara questo progetto insieme a Propaganda Fide, perché ha voluto che la sua congregazione nascesse nella Chiesa. Possiamo raccontare, Padre Giovanni, poi concretamente cosa è nato? Sì, è nata la congregazione scalabrignana, prima quella maschile, nel 1887, poi il ramo femminile, nel 95. È nata con due sacerdoti, uno della provincia di Piacenza, l'altro di Vicenza. Io mi domando, se non aveva fiducia nella provvidenza, di fronte a milioni di emigrati, come poteva fondare una congregazione? Perché Scalabrini aveva un concetto molto bello nella sua vita spirituale. Il concetto è inclusivo. Lui, anche a un piccolo fatto, lo metteva in un contesto ampio e diventava ampio anche questo piccolo fatto. Quei due lì erano frutto della provvidenza, erano frutti di un lavoro della Chiesa, erano frutto per fare il bene agli altri, quindi avevano un valore immenso. E si fidava e con la sua fiducia nella provvidenza andava avanti, non si spaventava della cosa devo fare, sono pochi, milioni di emigranti. No, da poco a poco ha costruito. Sentiva alle sue spalle di essere stato chiamato, ecco è quello che noi chiediamo carisma, chiamato dal Signore a fare il bene in quel settore, che finora, fino a quel momento, era scoperto, sia nella parte civile che nella parte religiosa. E si è impegnato, ha costituito questa congregazione, che a poco a poco ha camminato, prima in Brasile, poi negli Stati Uniti, alla fine siamo in 34 nazioni. Bel cammino. E oggi ne abbiamo presa una di queste, perché vogliamo andare a vedere l'attualità del carisma scalabriniano in una parte, in un luogo lontanissimo, a Città del Capo, dove ci aspetta, collegato con noi, Padre Filippo Ferraro, missionario scalabriniano, qui diamo il buongiorno. Buongiorno, Padre Filippo. Buongiorno a voi. Padre Filippo, direttore esecutivo dello Scalabrini Institute for Human Mobility in Africa, coordinatore dei progetti sociali della congregazione scalabriniana in Africa, appunto. Padre Filippo, ci racconti della tua esperienza lì? L'esperienza qua in Africa, dopo dieci anni, è veramente ricca. Ha riservato anche, credo, molte sorprese anche per noi scalabriniani, perché abbiamo dovuto imparare a essere missionari in Africa, perché nonostante tanti anni, decenni di attività con i migranti, la realtà specifica dell'Africa ci ha fatto fare quello stesso sforzo che ha fatto Scalabrini all'inizio, come diceva anche Padre Giovanni, cioè che cosa possiamo fare noi. Abbiamo dovuto un po' reinventarci anche missionari africani, perché la realtà della migrazione è molto diversa, è molto variegata a seconda dei contesti geografici e ovviamente sociali nei quali operiamo. Abbiamo cominciato qui nel 1994, un anno speciale per il Sudafrica, perché ovviamente era il primo anno delle elezioni democratiche, della libertà, del dopo apartheid, e abbiamo accompagnato questa nazione attraverso molte contraddizioni e fatiche a cercare di diventare un posto un po' più accogliente, specialmente verso i tanti migranti e i tanti rifugiati che l'hanno scelta come destinazione in questi ultimi trent'anni. E quindi abbiamo organizzato un po' tutte le nostre attività, ovviamente li accompagniamo dal punto di vista pastorale, spirituale, nelle diverse comunità e cappellanie, e poi abbiamo un grosso centro Scalabrine Center nel quale offriamo servizi soprattutto a livello di documentazione, di avviamento al lavoro, di formazione professionale, la lingua inglese, programmi universitari e una casa per minore che si chiama Lawrence House, nella quale accogliamo migranti che hanno il grosso problema di dover avere un documento, soprattutto perché i minori sono tra i più vulnerabili, ovviamente, e perché quando compiono 18 anni il rischio di essere appoliti e quindi ancora più vulnerabili è molto grosso. Padre Filippo. Ha tanto visto appunto il lavoro del centro studi nel quale lavoro, che cerca di offrire un supporto a livello di ricerca e di studio. Questa è una, credo, delle cose più, anche degli aspetti più interessanti del nostro lavoro scalabriniano. Come diceva padre Giovanni, quando Scalabrini andava nelle parrocchie vedeva che i migranti, che la gente emigrava, prendeva note appunti, numeri, cercava di capire da dove veniva questo fenomeno, dove stava portando. È un po' quello che cerchiamo di fare anche noi, perché il nostro intervento non sia solamente assistenza, ma aiuti veramente a cambiare la situazione dei migranti e della società locale. Padre Filippo, c'è qualche storia che ci vuoi raccontare? Perché spesso parliamo sempre di numeri, di cifre. C'è qualche esperienza che ti ha colpito? Ce ne sono tante, perché adesso qui ero preoccupato che ci fosse troppo rumore, perché ci saranno 200 persone alla reception. No, non si sente. Esatto, ho messo un bel cartello fuori. Io sai cosa, vi citerei un caso che è stato per me un caso molto toccante, è successo più o meno un anno e mezzo, due fa, un migrante che era qui regolarmente con tutti i suoi documenti scopre di avere un tumore, tra le volte un tumore alla pelle in faccia, quindi una cosa che l'ho reso ancora più marginale, vulnerabile e non voluto. Nessuno si stava occupando di lui perché non aveva nessun parente, nessun amico qui. In qualche maniera lui è venuto da noi chiedendo io vorrei andare a morire con la mia famiglia a casa. E lì è partito non solo il lavoro professionale del nostro staff che è veramente incommiabile, e anche in questo noi cerchiamo di andare sulle tracce di Scalabrini che veramente aveva un bel rapporto fruttuoso con l'Aicato. Quello che è successo è che abbiamo cominciato un odissea per poter fargli avere i documenti, eccetera. Purtroppo le regole strette e anche l'atteggiamento faticoso verso i migranti che c'è purtroppo anche qui in Sudafrica, lo hanno tenuto abbandonato all'aeroporto. Abbiamo dovuto insistere con le compagnie aere, abbiamo fatto di tutto. Ho visto operatori che si sono prodigati veramente per poter dare un po' di sollievo e di dignità a una persona che non chiedeva nient'altro che poter tornare a casa. Devo dire che è stato molto toccante anche dal punto di vista delle emozioni, però ha fatto vedere qual è il lato più profondo e più umano anche del nostro servizio, che è quello di riuscire a vedere in ogni persona la stessa dignità, ha gli stessi diritti e attraverso gli occhi della fede lo stesso desiderio di poter tornare alla patria. Padre Giovanni, quello che ha detto Padre Filippo sintetizza probabilmente alla perfezione quello che è il solco che è seguito della vita di Scalabrini. Un'attenzione anche a risvolti veramente molto pratici nei confronti della persona, ciò di cui necessita, ciò di cui ha bisogno e che magari è possibile aiutare sotto vari punti di vista e poi anche il conforto, il sollievo, la presenza. Sì, è tipico proprio di come ha voluto organizzare Scalabrini la sua opera di assistenza. Un'assistenza globale, cioè a 360 gradi, dal momento della partenza dell'emigrante, quindi contro gli speculatori che costringevano ad emigrare, al momento di partenza al porto ci ha messo un missionario, sulla nave che trasportava ci ha messo un missionario, nel porto di arrivo, Ellis Island o Ilas da Flores in Brasile, un missionario e poi la condivisione di vita del missionario con l'emigrante che rimaneva lì con gli emigranti. Quindi un'attenzione a 360 gradi, proprio oggi è difficile ripetere questo schema, però ecco, e poi non solo, ma la sua opera era assistenza religiosa ma anche sociale. Nel primo regolamento ha inserito anche le nozioni di farmacista per i missionari, la scuola, tutti gli aspetti sociali e ricreativi anche, ha voluto che ci fossero presenti, quindi i primi missionari scalabrignani sono stati veramente eroici. Quando scalabrigni è andato a visitare gli emigranti, prima nel 1901 negli Stati Uniti, incontrando anche il Presidente degli Stati Uniti, poi nel 1904 in Brasile e ha visto il lavoro dei suoi missionari e ha detto adesso qui ho visto, li devo chiamare veramente eroici. Grazie Padre Giovanni. Volevamo tornare da Padre Filippo. Padre Filippo, forse un tema di cui si parla poco e che tu vivi in prima persona è che il Sud Africa emette anche di immigrazione dall'interno. Noi non lo conosciamo bene questo fenomeno. Cosa ci puoi dire? Dovrei dire quello che dico ogni volta che mi chiedono conferenze o grandi dibattiti sulla migrazione, che ovviamente la visione che noi abbiamo della migrazione africana è abbastanza parziale purtroppo, perché la maggioranza, il 75% di immigrazione non si svolge nella direzione delle coste nord-africane verso l'Europa come pensiamo, questa invasione che non esiste, ma si svolge all'interno dell'Africa. È una migrazione interna, è una migrazione nella stessa regione per la grandissima maggioranza o è sul sud, quindi si muove dal centro dell'Africa o dall'ist Africa verso il Sud Africa che funge un po' da paese che attira ovviamente avendo un po' più avanzato a livello di strutture, quindi avendo anche una policy che è quella voluta da Mandela dopo la democrazia in Sud Africa che è molto avanzata, anche se purtroppo non è sempre rispettata e messa in pratica a livello concreto e amministrativo. Com'è la percezione, padre Filippo, di voi missionari scalabriniani? Beh, all'interno dell'Africa devo dire che sono sempre stato accolto con molto affetto e anche molta speranza. Io credo che noi portiamo speranza perché il discorso dell'estremo bisogno di fare qualcosa a livello di chiesa locale per la migrazione, perché quello è il nostro lavoro più grande qua, non è espandere la presenza scalabriniana, ma far sì che il carisma scalabriniano aiuti la chiesa locale a farsi carico dell'accoglienza dei migranti. Però molto spesso purtroppo questo si scontra con magari la mancanza di personale qualificato, di strutture, di risorse, di progettazione e in questo noi cerchiamo di aiutare le varie chiese perché possano veramente fare proprio questo compito. Padre Filippo, noi ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi, puoi togliere quel cartello che hai messo davanti alla porta e accogliere quelle 200 persone, anzi salutaceli, per arrivare il nostro abbraccio fin laggiù. Grazie. Grazie a voi. Padre Giovanni, è stato definito in tantissimi modi scalabrini, padre di immigrante, è stato definito anche apostolo del catechismo. Eh sì, io direi addirittura che è il fondamento della sua attività, è proprio il desiderio di portare la parola del Signore, il Vangelo, a tutti. Allora costituisce l'opera per i sordomuti perché non potevano capire le parole del Signore, eccetera, l'informazione religiosa. Un'opera per i mondariso perché erano lontani, era nelle campagne e nessuno era presente per questo e anche gli emigrati li ha costituiti essenzialmente, a mio parere, proprio per portare l'evangelizzazione anche a loro. Gli emigranti italiani che andavano in Brasile si trovavano nelle foreste a disboscare, ci mandi un prete perché qui viviamo e moriamo come delle bestie. scrivevano queste lettere per la scuola, per l'assenza religiosa. Molti venivano dal Veneto quindi con una concezione religiosa proprio tradizionale quindi molti scrivevano questo, un appello proprio. Scalabrini manda proprio per questo. Negli Stati Uniti i nostri emigranti vivevano emarginati nelle grandi città, facevano, non so, lustra scarpe, vendevano frutto, non conoscevano la lingua. Ecco l'emigranti, il missionario che poteva aiutare aiutare i connazionali. Quindi la sua opera era un'opera anche di evangelizzazione parte sociale e parte religiosa. Voleva che ci fossero... E la sua opera continua nel salutarti Padre Giovanni e vogliamo anche fare gli auguri a Padre Fabio Baggio perché è notizia dei giorni scorsi delle nuove nomine dei nuovi cardinali e Padre Fabio Baggio diventerà cardinale scalabriniano mentre Scalabrini è stato vescovo giovanissimo e invece diventerà un giovanissimo cardinale Padre Fabio Baggio. Guardi, una piccola congregazione come quella scalabriniana 600-700 persone ha avuto tre cardinali ma Monsignor Scalabrini e questo l'ha posto dire come archivista doveva essere cardinale da Pio X quando ha lasciato Venezia voleva che il suo successore fosse Scalabrini e ho visto la Terna c'era il nome di Scalabrini e certamente ne ha parlato e Scalabrini ha fatto capire chi ha rifiutato primo perché diceva ho già più di 60 anni e sono anziano e poi perché aveva la sua opera lì a Piacenza e non sapeva dopo che fine poteva fare. Grazie, grazie Padre Giovanni grazie per essere stato con noi. E allora adesso rimediato si può dire con tre cardinali l'ultimo addirittura il Papa vuol bene alla congregazione ma vuol bene agli emigranti. Grazie grazie Padre Giovanni per essere stato con noi e buona giornata. Noi ce ne andiamo in pubblico.